Buonasera e benvenuti in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca giudiziaria. Incompetenza per materia, questa è la motivazione dell'eccezione sollevata dalla difesa di Patrizia Silvestri davanti alla Corte d'Assise di Chieti nell'ambito di uno stralcio del processo per l'omicidio del piccolo Maxim. Vediamo. Gli atti relativi all'accusa di falso ideologico del processo per la morte del piccolo Maxim tornano alla procura di Pescara. La Corte d'Assise di Chieti ha accolto un'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa di Patrizia Silvestri, moglie di Massimo Maravalle, reo confesso della morte del bimbo di 5 anni soffocato nel sonno nella notte fra il 17 e il 18 luglio 2014 a Pescara. Lo scorso 9 febbraio, nel processo con rito abbreviato davanti al GUP di Pescara Nicola Colantonio, Maravalle era stato assolto dall'accusa di omicidio in quanto non punibile perché affetto da disturbo psicotico, in base alle perizie dello psichiatra Renato Ariatti. Nello stesso processo l'uomo è stato condannato ad un anno di reclusione e pena sospesa per falso in concorso. Davanti alla Corte d'Assise di Chieti erano finiti la moglie di Maravalle, i medici Giuliana Iachini del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Asle di Pescara e Fabio Panzieri, medico di famiglia, tutti accusati di falso in relazione all'adozione internazionale del piccolo Maxim. I due medici, nell'ambito delle stesse procedure, avrebbero redatto certificati che attestavano l'assenza di patologie in Maravalle. Secondo l'avvocato Vasile, che difende Patrizia Silvestri, il rinvio operato dinnanzi alla Corte d'Assise di Chieti è apparso una violazione dell'articolo 25 della Costituzione, che enuncia il diritto al giudice naturale. Ora il PM di Pescara dovrà riformulare le accuse in modo che il procedimento torni davanti al GUP e infine davanti al Tribunale monocratico del capoluogo adriatico. Secondo l'accusa, l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale minacciando di spararle se avesse opposto resistenza. Un'accusa che questa mattina, al termine del processo davanti al collegio, presidente Giovanni Spinosa, è costata ad un 79enne di Martinsicuro una condanna a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale. L'uomo è stato invece assolto con la formula perché il fatto non sussiste per un secondo capo d'accusa relativo ad un episodio minore di violenza e dall'accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco che gli era stata contestata nella precedente udienza. Le questioni legate alla nascita della TUA hanno creato una frattura netta tra sindacati e regione Abruzzo. Nell'ultimo incontro, davanti al prefetto di Chieti, è nuovamente fallita la trattativa. Oggi le sigle sindacali annunciano due nuovi scioperi in programma nel mese di maggio. Non si placa la quereltra Filt CGL e Regione Abruzzo sul caso trasporto pubblico. Dopo la denuncia sui vettori privati che sovrapporrebbero le proprie corsi a quelle regionali, togliendo guadagni al servizio pubblico, il punto ora si focalizza sull'atteso intervento legislativo che dovrebbe colmare il vulnus che ha causato l'intera questione. Proprio ieri si è svolto l'incontro davanti al prefetto di Chieti alla presenza di tutti gli attori del caso, regioni e sindacati. La regione non ha rilasciato alcuna autorizzazione ad un vettore privato per poter espletare il servizio in concorrenza su un tratto che è contribuito e ci riferiamo alla tratta L'Aquila-Roma. Questa situazione permane, noi in occasione della convocazione che c'è stata in prefettura per lo stato di agitazione che è stato proclamato in Tua, abbiamo avuto la presenza anche di alcuni funzionari della regione che hanno confermato questa situazione. A seguito del mancato accordo tra regione e sigle sindacali, la CISL Filt annuncia due scioperi, uno nei confronti della regione e l'altro nei confronti dell'azienda di trasporto unico Tua, entrambe previste per il mese di maggio. Uno sciopero proclamato per avere più risorse ai trasporti, visti gli ingenti tagli che sono stati effettuati sia dal governo regionale ma anche dal governo nazionale. Le regole proprio affinché la regione predisponga in tempi rapidissimi un piano triennale dei servizi, i servizi minimi e anche un piano regionale sui trasporti. Noi ci aspettiamo che appunto si intervenga dal punto di vista legislativo in tempi rapidissimi per evitare che in regione Abruzzo permanga questa situazione di esclusività, se vogliamo che è una sorta di giungla sulle regole. Entro un mese la Banca d'Italia dovrà depositare al Tar del Lazio l'atto di valutazione definitiva relativa alla procedura che ha portato all'azzeramento del valore dei titoli di Banca Mark, Banca Etruria, Carichieti e Carife. L'ha deciso il Tribunale amministrativo con una serie di ordinanze istruttorie dopo la discussione nel merito dei nove ricorsi proposti dal Codacons, da alcune fondazioni bancarie e da alcuni soci, tutti per contestare la legittimità del cosiddetto decreto salva banche. Il Tar ha chiesto a Banca Italia anche una relazione integrativa circa lo Stato del procedimento successivo alla valutazione definitiva comprensivo di eventuali sopravvenienze, fissando al 4 di ottobre la nuova udienza di merito. Il vicepresidente della Giunta regionale Lolli ha convocato un tavolo urgente per cercare di individuare una soluzione all'avvertenza del call center eCare che all'Aquila impiega 400 persone. Un tavolo con Vodafone, iCare, regione e sindacati per seguire da vicino l'evoluzione del piano industriale del call center con sede all'Aquila e chiedere al committente principale Vodafone di avere un'attenzione particolare per questo territorio, per costituire le condizioni perché qui si realizzi un centro di eccellenza in termini di professionalità e prospettiva verso i nuovi mercati. È la proposta del vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, avanzata al termine dell'incontro dagli stesso convocato, per una prima analisi della situazione all'indomani della comunicazione data alla RSA il primo aprile scorso dai vertici aziendali della reinternazionalizzazione della commessa Biottele2 da parte del cliente Vodafone. Alla riunione, oltre al management dell'Icare, c'erano il consigliere regionale per Paolo Petrucci, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e rappresentanti sindacali e dell'RSU aziendale. L'Icare è presente all'Aquila dal 2009 ed occupa circa 400 addetti, su un totale di circa 2000 impiegati nel territorio aquilano nel settore dei call center. Nei giorni scorsi l'Ail System, che a maggio acquisirà il 100% delle quote azionarie, ha annunciato che una delle principali società committenti, la Vodafone, ha intenzione di terminare il contratto con i Care, determinando ripercussioni che potrebbero interessare una quota del personale attualmente impiegato all'Aquila, circa 80 su 400 addetti. Di qui l'iniziativa di Lolli, che vuole da Vodafone, garanzie sulla disponibilità di investire sul sito aquilano, che ha tutte le caratteristiche per diventare un polo di eccellenza anche nel settore dei data center e delle telecomunicazioni. Una trentina di computer fissi, pc portatili, pezzi del LIM, le lavagne informatiche, oltre a registri informatici, sono stati rubati da ignoti la notte scorsa nelle scuole elementari e medie di Altino, facenti parte dell'istituto comprensivo De Petra di Casoli, sempre in provincia di Chieti. I lati sono entrati anche nella vicina palestra comunale, dove sono stati rubati palloni e un videoregistratore di proprietà della locale squadra di volley promossa recentemente in B1. I danni totali stimati ammontano a oltre 20.000 euro. Un terzo colpo fallito, con solo danni a due porte di accesso, si è registrato alla scuola media di Rocca Scalegna, sempre in provincia di Chieti. Due chilometri di costa interdetti alla balneazione. Il sindaco di Pescara firma l'ordinanza alla luce degli ultimi dati forniti dall'Arta, ma annuncia che la stagione non è ancora compromessa. Intanto si attende la fine dei lavori del collettore di K15, prevista entro la fine del mese. Poi dovranno essere ripetute le analisi sulle acque. Il comune di Pescara pubblica un'ordinanza sulla balneabilità. Due chilometri che sono interdetti per adesso, ancora bisognerà vedere quello che succederà ad avvio di stagione, in qualche modo qualcuno dice compromesso l'inizio della stagione estiva. Io dico sempre che bisogna conoscere per deliberare. Si parte con un divieto di balneazione esteso fino a Via Ragazzi del 99, ma possiamo guardare con ragionevole ottimismo al futuro. E lo facciamo non in base a previsioni da sciamano, ma in base al lavoro svolto questo inverno. Un lavoro teso a incidere il più possibile sulla vera causa della criticità del nostro mare, che è il fiume. Questo significa che a fine aprile termineranno i lavori del DK15. Questo strano nome che significa collettare scarichi ed evitare che essi vadano direttamente nel fiume. Questo avrà riflessi positivi. Poi abbiamo svolto un'azione di monitoraggio ampia sul fronte scarichi civili e scarichi abusivi. Stiamo, per quello che è possibile, tappando tutti gli scarichi. E l'esame dei dati, anche questa è una novità perché noi abbiamo monitorato i dati del mare e del fiume lungo tutto l'inverno, mostrano una tendenza positiva. E quindi possiamo pensare che questo divieto ampio con cui si parte potrà essere ridotto. Adesso i punti di campionamento sono nove e vengono ripetuti ogni 15 giorni. Vengono ripetute queste analisi e dobbiamo attenderci due campionamenti consecutivi positivi onde poter procedere alla rimozione del divieto di balneazione. La nostra proposta di istituire un'autorità dotata di pieni poteri per coordinare le azioni di contrasto all'inquinamento trova ora ulteriore attualità in relazione ai divieti di balneazione imposti su un tratto del litorale di Pescara. Lo afferma il segretario nazionale di CNA Balneatori Abruzzo, Cristiano Tomei, secondo il quale occorre un atto di sensibilità istituzionale da parte del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, nell'accogliere la richiesta formulata nelle scorse settimane dalle imprese balneari aderenti alla CNA. Dice ancora Tomei al Comune, cheppure si sta prodigando sul terreno del risanamento di discarichi abusivi e sul completamento di opere importanti per la depurazione e il collettamento delle acque, chiediamo una operazione trasparenza nei confronti della pubblica opinione, ovvero la puntuale comunicazione di tutti gli interventi programmati, dei loro tempi di attuazione, dei loro esiti. E a Teramo continua il botta e risposta tra le due organizzazioni di protezione civile. Oggi in conferenza stampa è arrivata la replica alle dichiarazioni fatte ieri dal Presidente della Cives del Presidente della Gran Sasso. Se c'è un settore nel quale non vale il principio della territorialità, quello è proprio la protezione civile. Così il Presidente dell'Associazione denominata Gran Sasso d'Italia in risposta alla Cives di Teramo. Il senso nel quale deve andare il volontariato, anche quello di protezione civile, è quello aggregativo. Noi siamo inclusivi, quindi non siamo esclusivi, e continuiamo la nostra opera, soprattutto a disposizione e in relazione a tutti, anche la Cives, che è un'associazione che ha una grossa struttura, volontari formati e che ha la sua storia, che rispettiamo. Il nostro progetto parte da un'idea nata nel 2014, a febbraio 2014, che poi è stata recepita in qualche modo da una delibera dell'aggiunta del 2014, ci ha aggiunta regionale, che inizia a regolamentare, a creare delle condizioni per creare delle aggregazioni territoriali. I volontari di protezione civile a volte si trovano a spalare il fango per emergenza. Ecco, in questo caso, in maniera così ideale, sta succedendo la stessa cosa. I volontari Gran Sasso d'Italia lo spaleranno, questo fango lo metteranno ai bordi della strada e continueranno a percorrere questa via che ormai è andata. Perché Teramo, la sede di Teramo? Perché da Teramo è arrivata un'istanza di alcuni volontari che hanno chiesto di costituirsi come sezione. Noi, seguendo lo statuto, seguendo quelle che sono le procedure interne appunto dello statuto stesso, abbiamo fatto le valutazioni. Il consiglio direttivo, che è espressione delle territorialità presenti, quindi sono otto comuni, hanno fatto una valutazione e hanno deciso di accogliere questa espressione di volontari. Diversamente questa sarebbe stata una risorsa sprecata. Ha chiarito alcuni passaggi dello scontro in fine? Come lo commenta? Perché secondo lei questo scontro? Io non lo commento. Avrei preferito, come ho chiesto prima che iniziassimo questa avventura, un colloquio seduti a un tavolo. Quindi non so nessuna polemica di queste. È vero che la lingua italiana è stata colonizzata dalle parole straniere, in particolare dall'inglese. Se ne è parlato, se ne è discusso questa mattina a Pescara in un convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Brand, spending review, job sect, welfare, local tax. Potremmo continuare a lungo ad elencare le parole prese, soprattutto dalle lingue inglese, che hanno contaminato l'italiano e che ormai sono diventate di uso comune. Ma quanto queste parole sono comprese dall'opinione pubblica? La risposta è poco, se pensiamo che sei italiani su dieci non conoscono nemmeno le basi di una lingua straniera. Del ritorno all'utilizzo delle parole italiane, laddove ci sia il corrispettivo del termine estero, e di quanto sia ormai contaminato il linguaggio dei mass media, si è discusso a Pescara in un convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti e intitolato L'italiano al tempo della globalizzazione, a cui ha partecipato tra gli altri il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini. Non si tratta di un ritorno all'autarchia o di mero conservatorismo, si è detto durante il convegno, ma di salvaguardare l'identità nazionale che passa anche e soprattutto attraverso l'uso di una lingua comune, l'italiano. Dove c'è maggiore ignoranza, maggiore trascuratezza, maggiore arroganza, e spesso nelle istituzioni pubbliche questo c'è, allora si apre, non per necessità, ma per esibizionismo, parole straniere. Gli scambi tra le lingue sono necessari, ci saranno certamente tante parole che dobbiamo acquistare, adattandole, traducendole. Di chi è la responsabilità di questa situazione? Di tutti noi, i parlanti, coloro che la parlano, e soprattutto quelli che si danno aria di essere i decisori per gli altri. I giornalisti devono stare molto attenti, spesso non sono loro che li inventano, li introducono, che li vogliono imporre, ma sono spesso, purtroppo, passivi. Si è svolta questa mattina, presso la sala consigliare della provincia a Teramo, alla cerimonia di premiazione del concorso Un Sacco in Comune a Tutta Plastica, primo classificato il comune di Giulianova. Il comune di Giulianova è il vincitore della prima edizione abruzzese, denominata Un Sacco in Comune a Tutta Plastica. Il comune si aggiudica un'area giochi in plastica riciclata, proveniente dalla raccolta differenziata. Al di là del premio, ritengo che oggi abbiamo fatto una cosa di importante, abbiamo rafforzato l'educazione ambientale al rispetto dell'ambiente e della buona pratica della raccolta differenziata. È vero, Giulianova ha fatto un più 44% sulla raccolta della plastica, il che dice molto sull'attenzione che i cittadini riversano nei confronti della nostra città. Solo grazie all'educazione, alla divulgazione, all'informazione, anche all'interno delle scuole soprattutto, riusciamo a mantenere alto il livello di guardia e a consentire che la nostra città rappresenta un'eccellenza sulla raccolta differenziata. Il secondo classificato è Roseto degli Abruzzi, con più 13%, infine terzo Teramo, con un più 9%. Oggi il Corevla ha ricordato che l'Abruzzo è una delle regioni che ha la più alta percentuale di plastica a chilogrammi pro capite delle regioni del sud. Siamo secondi soltanto alla campagna, con 14 chilogrammi pro capite la campagna ne ha 16. E ci sono diverse regioni anche nel nord che sono dietro all'Abruzzo, il che sta a significare che grazie ai cittadini abruzzesi si riesce a raggiungere questi ottimi risultati. Su Teramo si sta lavorando anche per facilitare un po' di più e abbassare i costi della raccolta differenziata? Noi stiamo intorno al 62%, quindi abbiamo per differenza un 38% di indifferenziata. Se riuscissimo a ridurre questa percentuale vorrebbe dire risparmiare diversi soldi. È un messaggio che va dato ai cittadini, dipende da loro principalmente, perché sono loro che fanno la raccolta differenziata. Questo risparmio servirà poi un domani a ridurre i costi dei bollettini tari. La Fondazione Dean Martin consegna un premio ad un uomo che si è distinto per l'opera umanitaria e caritatevole, profusa nei paesi più svantaggiati. Si tratta di Don Bruno Giuliani, originario di Capestrano, nell'Aquilano, impegnato da anni a sostenere le popolazioni in difficoltà in Brasile. Un premio per l'impegno profuso, per aiutare gli altri, lo spirito umanitario. Questo è il premio Dean Martin, viene consegnato in anticipo perché il suo impegno è in Brasile. Io sono venuto qui per due motivi. Primo, quando mi hanno detto che volevano darmi questo riconoscimento. Mi è piaciuto non tanto per la mia persona, quanto è un'altra manifestazione che la Chiesa è sempre presente quando c'è bisogno. Secondo perché ho conosciuto giorni fa vari parenti che sono venuti dall'Australia, figli di mio zio, che non conoscevo né io né la mia famiglia. L'origine abruzzese di Capestrano. Ah sì, di Capestrano, sì. Però ho visitato buon parte dell'Abruzzo, perché papà, come funzionato pubblico, legato un po' al denaro, alle tasse, eccetera, era trasferito ogni sei mesi. Sono la scuola elementare, l'ho fatto in più di dieci paesi abruzzesi. L'Abruzzo si preoccupa di trovare tutti i suoi rappresentanti in giro per il mondo. In questo caso un rappresentante che va a approfondere un aiuto umanitario nei paesi dove ci sono davvero tante difficoltà. In questo caso si parla del Brasile. Ecco, questo è un premio particolare. Questo nostro rappresentante, Don Bruno Giuliani, ha dedicato la sua vita a un'attività di pastorale sanitaria. Ha quindi guardato le difficoltà della gente, ha costruito le condizioni perché ci fossero gli elementi per curarli e soprattutto ha fatto sentire la sua vicinanza come supporto psicologico alle tante persone della nostra regione, della nostra Italia, che in quelle terre vivono momenti difficili. A Pescara quest'oggi è stato presentato un libro che è una raccolta di favole e il cui ricavato sarà devoluto all'ACBE, l'associazione al fianco delle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemie. I racconti sono stati scritti da un pediatra che per anni ha operato nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Vediamo. Dopo aver per tanti anni curato e essere stato a fianco dei bambini dell'ACBE a fine della carriera decide di fare una raccolta di favole scritte e realizzate proprio da lei e destinare i fondi proprio all'associazione. I bambini sono coloro che io ho visto per tutta la vita, sono stato sempre in mezzo a loro e ho fatto questa cosa, questo piccolo contributo che vorrei destinare all'ACBE. Ogni favola è stata animata da un disegno realizzato proprio da uno dei bimbi dell'ACBE. Sì, è stato così. Abbiamo dato al comitato direttivo dell'ACBE queste favole e i bambini, sia quelli dell'ACBE che alcuni altri bambini anche del mio studio, hanno con gioia, insomma, forse non tutte ci sono le opere fatte dai bimbi. Abbiamo raccolto quelle che era possibile raccogliere. Una prima tiratura di 200 copie, l'ambizione è quella di poterne fare un'altra grazie a una bella vendita. Sì, fondamentalmente i costi sono stati coperti tutte da sponsorizzazioni. Io posso solo ringraziare le persone che hanno messo anche un minimo contributo, perché le spese sono tutte già state coperte. Quindi l'intero ricavato della vendita del libro andrà direttamente all'ACBE senza ulteriori passaggi. Quello del trasporto è uno dei servizi più importanti dell'ACBE perché dà modo a tante famiglie di non spendere assolutamente niente per poter portare i bambini al dei hospital. Abbiamo implementato il numero di mezzi, tu dicevi bene, per non far spedere soldi alle famiglie, ma soprattutto per non far perdere posti di lavoro alle famiglie, ai genitori, perché non dimentichiamo che molti genitori rischiano il posto di lavoro, alcuni praticamente hanno perso il posto di lavoro. Come amministrazione è un dovere essere accanto a un'associazione come l'ACBE che tutti i giorni lotta per cercare quindi un supporto non soltanto per i bambini che sono malati, ma soprattutto per i genitori, per una famiglia che ovviamente è provata da un momento davvero difficile. Un progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi mette nel risalto la bellezza e la voglia di rinascita delle donne aquilane nel post-sisma. Girls in Sport è il progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi. 12 discipline rappresentate da altrettanti atleti aquilane. L'energia e la femminilità esaltate attraverso gli scatti fotografici. Donne che tendono ad occultare nelle gare il loro lato femminile, che il fotografo invece attraverso la sua arte è riuscito a cogliere perfettamente. Dal corpo femminile possiamo avere tante sfaccettature diverse, quindi dalla bellezza all'energia alla sensualità di una donna che racconta il suo sport attraverso un'autobiografia. Questo progetto, che racchiude 12 discipline sportive, vengono raccontate attraverso un video dove le ragazze raccontano la loro autobiografia e attraverso un articolo stampa dove verranno fatte vedere le fotografie più belle con la loro biografia scritta. Atlete ritratte durante gli allenamenti, ma anche nei momenti di vita quotidiana, in set cinematografici naturali. L'obiettivo principale di Colacchi è stato anche attraverso i suoi innumerevoli progetti fotografici sul territorio mettere in luce quanto di bello abbia l'Aquila in questo momento da offrire. Lo sport è come la musica, cioè lega la gente, quindi il tessuto sociale che in questo momento, in questa terra, è un po' dislocato. Lo sport lo riesce un po' a riamalgamare. Domenica 1 maggio coincide con l'iniziativa ministeriale Domenical Museo, che prevede la gratuità di tutti i musei e le aree archeologiche nella prima domenica del mese. In tale occasione la soprintendenza archeologica d'Abruzzo ha organizzato l'apertura dalle 14 alle 20 e la visita guidata nelle seguenti aree archeologiche. Alba Fucens, una passeggiata nella città romana a cura della dottoressa Emanuela Ceccaroni e Juvanum a Monte Nerodomo, in provincia di Chieti, area archeologica e museo della città romana. Ed ora apriamo la pagina dello sport, intanto con la notizia del rinnovo del contratto del difensore del Pescara, Davide Vitturini, che qui vediamo in foto proprio al momento della firma del contratto. Un contratto che legherà Vitturini con la Pescara Calcio per altri 5 anni. E' anche un premio per le ottime prestazioni offerte dal giovane difensore classe 97 nelle ultime settimane, proprio con la divisa bianca-azzurra. Dunque rinnovo del contratto, contratto quinquennale per Davide Vitturini. Pescara che continua a preparare la trasferta di Chiavari, oggi allenamento al Petruzzi di Città Sant'Angelo, ancora terapie per l'attaccante La Padula. Noi ascoltiamo ora il difensore Fornasier. Hai giocato al fianco di Zuparic, hai giocato con Campagnaro, da qualche settimana stai giocando con Mandragora e i risultati dicono che questa è una coppia di centrali difensivi davvero importante per il Pescara. Sì, ma più che altro per i risultati, perché si sa che è così, però a prescindere da quelli, chiunque è entrato in campo ha sempre dato il massimo e questo è fondamentale. Non è solo i centrali o la difesa o il portiere, ma è tutta la squadra, come ho sempre detto. La difesa parte anche dalla Padula, dal nostro primo attaccante e quando tutti danno una mano è più facile per tutti. Michele, parliamo di questa gara di sabato a Chiavari. Troverete di fronte un brutto cliente e tu probabilmente dovrai marcare un giocatore come Caputo, che è un giocatore che quest'anno sta facendo molto bene. Sì, è una squadra fortissima, molto preparata, sappiamo che può metterci in difficoltà, poi giocano in casa, quindi dobbiamo stare comunque attenti. I giocatori ce li hanno, come ormai tutte le squadre di Serie B hanno un grosso potenziale, però noi andremo lì come facciamo sempre, daremo il massimo e cercheremo di portare a casa un buon risultato. Parlando ancora di questa partita, quali potrebbero essere le insidie della sfida di sabato? un campo piccolo, una squadra che in casa sa farsi rispettare. Di sicuro, certamente l'hanno dimostrato, è un campo piccolo, sintetico, però non dobbiamo trovare alibi, dobbiamo andare lì con la stessa mentalità di queste ultime partite, dare il massimo, ognuno dal primo all'ultimo, e poi i risultati arriveranno. Quattro partite, Pescara punterà a fare il massimo, 12 punti, incontrerete una squadra in lotta per i play-off e poi tre squadre che invece devono cercare la salvezza. Sì, assolutamente, è durissima, perché si sa che soprattutto alla fine le squadre che lottano per salvarsi danno tutto, veramente tutto di più, quindi dovremo stare attenti, ma pensiamo partita per partita, ora come ora c'è l'entella, e siamo concentrati su di loro, poi si prenderà quello che viene. Anche la Virtus Lanciano prepara il match delicato con l'Avellino del Biondi di sabato prossimo, oggi lavoro di riatletizzazione per Manuel Turchi, ancora assente Michele Rocca, che torna in serata dagli impegni con la Nazionale Under 20, e da domani sarà a disposizione del tecnico Maragliulo, domani alle ore 14, la squadra si allenerà ad Ortona. Ora la Lega Pro con un comunicato stampa diramato dall'Aquila Calcio in risposta ai rilievi di presunto distacco da parte della società nei confronti della squadra, più volte sollevati dagli organi di informazione, la società precisa che è sempre stata vicina alla sua squadra e ha sempre preso decisioni tempestive per portare al successo la squadra stessa. A tale scopo si ritiene opportuno interrompere il silenzio stampa, gli interlocutori sino al termine della stagione saranno il presidente Corrado Chiodi, il vice Massimo Mancini, il tecnico Giacomo Modica e il DS Alessandro Battisti. E ora parliamo di Teramo con le parole del centrocampista Stefano Amadio. Personalmente, ma penso anche gli altri, eravamo partiti per fare un campionato un po' più importante, penso, poi le varie dinamiche è andata così, però è chiaro che per fare questo mestiere le motivazioni devi trovare da solo e quindi penso che le due partite che rimangono le dobbiamo onorare al meglio e fare due grandi partite e poi si comincerà a pensare l'anno prossimo. Io, come sapete, c'è un altro anno di contratto, qua sto bene, pensiamo a finire queste due partite e poi ne cominceremo a parlare. Ma è chiaro che è il mio mestiere, mi piace giocare, mi piacciono le partite, quindi è chiaro che mi piacerebbe proiettarmi all'anno prossimo, però prima ci stanno queste due partite e bisogna farle bene. Ritengo quella di domenica una partita importante perché comunque vogliamo mostrare appunto che possiamo, cioè, siamo all'altezza della spalla, soprattutto in casa, perché in casa è dove, penso, abbiamo dimostrato di valere qualcosa in più della salvezza, secondo me, perché non l'abbiamo mai perso, perché abbiamo vinto tanto, perché penso che il reale valore del terramo sia quello che siamo riusciti a esprimere in casa e dove abbiamo difettato appunto un trasferto. La Mediasix SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6, in forma che intende di fondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consiglieri comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016 a tal fine informa che presso la propria sede ubicata a Silvi, strada statale Nord 26, numero di telefono 085-930020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse e concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati. le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Mediasix SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Bene, è tutto per questa terza edizione del TG6, TG che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.